Buongiorno e bentornato sul mio canale. Come vedete io ho in mano un bellissimo filato e un acrilico, molto bello, molto morbido, di colore rosso. A voi si verrà un po' più sfumato, ma in realtà è un bel tipo di rosso. Ecco qua, magari se tolgo la luce si vede meglio. Allora, visto che arriva la festa della mamma, ho pensato a un piccolo regalino, un piccolo pensierino da fare, da regalare alla propria mamma. Ed è molto molto utile in cucina. Cosa andiamo a creare? Andiamo a creare una crisina. Sapete quando prendiamo le pentole, quelle cose che sono molto calde. Io ho pensato a questo, visto che le mamme si girano tanto in cucina, credo anche voi come me, ho pensato a una cosa molto utile. Allora, io andrò a lavorare con il filato piegato a tre. Nel senso, un unico filato lo facciamo diventare dello spessore del triplo. Ho fatto già un video che ho pubblicato sul mio canale, comunque ve lo faccio rivedere. È molto molto semplice. Allora, andiamo semplicemente a prendere il nostro filato. Ok? E lo posizioniamo in questo. Posizione così. Così e così. Ok? Quindi andiamo a fare una S. No, scusate. Oh, sì, sì, è giusto così. Allora, così, una S. Ora andiamo a prendere i nostri tre fili in questo modo e inizieremo dalla parte dove c'è l'inizio del nostro filato. Andremo a lavorare a maglia bassa per avere un lavoro più compatto. Io uso l'uncinetto numero 4, in quanto questa lana è già spessa da sé, quindi lavorata a tre, uscirà veramente molto molto doppia. Ma utilizzando l'uncinetto un po' più grande usciranno delle maglie basse molto larghe. Io invece voglio veramente quel lavoro bello compatto, in modo da avere la resistenza al calore. Ok, allora, iniziamo, puntiamo l'uncinetto, faccio il mio giro e lavoriamo 5 catenelle. In realtà, non 5 catenelle, scusate, ne andremo a lavorare 1, 2, 3, 4. Dovremmo avere alla fine due quadretti. Allora, 1, 2, 3 e 4. Ok, la prima e la seconda la lascio e puntiamo, prima e seconda, nella terza e nella quarta, avremo due maglie basse. Allora, vi faccio vedere, mi raccomando, state sempre attenti al filo. Quando siete in fine, basta passare il filo sottostante in mezzo e tirare e avremo nuovamente il nostro filato a tre. Se volete una descrizione più dettagliata, andate sul mio canale e troverete il video fatto apposta. Allora, noi dovremmo lavorare 23 giri, sempre aumentando. Ma, andremo ad aumentare fino al sedicesimo giro, sempre dal lato. Cioè, ogni lato aumenteremo. Poi magari man mano vi spiegherò. Poi ci saranno dei giri dove andremo ad aumentare e lavoreremo un altro giro successivo senza aumenti. Ma questo lo facciamo man mano. Allora, questo è il nostro primo giro. Il nostro secondo giro in cosa consiste? Aumentare, a montare al lato. Quindi andremo a lavorare senza fare le catenelle, due maglie basse nel primo punto, nella prima maglia bassa sottostante. Quindi abbiamo uno e due. Ok? Poi abbiamo la nostra terza. Allora, io veramente sto lavorando stretto stretto per poter utilizzare in modo giusto la mia presina. Non so se vi ho detto, uscirà una forma di cuore, quindi proprio adatta per la festa della mamma. Nell'ultima maglia, questa che è sempre più nascosta, andiamo nuovamente a lavorare due maglie basse. E questo procedimento lo faremo fino al sedicesimo giro. Facciamo una e due. Ok? E siamo al nostro secondo giro. Il primo e il secondo. Rigiriamo, tiriamo leggermente il filo e rifacciamo nuovamente due maglie basse nel primo nella mia prima maglia bassa sottostante. Mi raccomando, lavorate stretto. Usate un bel tipo di filato, magari già spesso da sé che ho utilizzato piegato a tre in quel modo che vi ho fatto vedere che è veramente un modo eccezionale, pratico. Non dovete lavorare con due, con tre gomitone, ma bensì con uno. E avrete questo spessore. Guardate, è veramente bella spessa. Credo sia un mezzo centimetro. Allora, mi raccomando, state attenti a questa maglia che è sempre quella nascosta. L'ultima maglia è sempre un po' più rigida da lavorare. Guardate un po'. Ecco qua, ce l'abbiamo fatta. E lavorate sempre due maglie basse nella maglia bassa sottostante. Vedete, andiamo ad allargare man mano. Tirate poco poco il filo all'inizio. Alla fine non c'è bisogno, ma all'inizio lo dobbiamo tirare un po'. Ok? Io sto per finire. Vedete, allora andiamo sempre a passare il filo in mezzo e tiriamo. Ok, allora continuiamo così per tutti i nostri giri. Arrivati poi al sedicesimo giro diciassettesimo, scusate, io sto guardando lo schema proprio adesso, sono sedici arrivati al diciassettesimo giro che lavoreremo anche in questo modo. Il diciottesimo andrà lavorato nel modo uguale nell'aumento ma lavorando una fila in più senza aumento poi ve lo farò vedere dopo insomma. Allora, lavorate così per diciassette giri. Ci rivediamo alla fine dei giri. Come vedete si forma già la nostra punta del nostro cuore. Vedete? io non sono ancora della diciassettesima fila e sono alla due quattro sei otto e una dell'inizio nove quindi già il nostro cuoricino inizia a prendere forma. Continuiamo così e ci rivediamo alla diciassettesimo giro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.